Il dato del risultato di queste elezioni regionali certamente non è quello che ci aspettavamo, però non è un risultato che noi vogliamo sottovalutare. Comunque dobbiamo ringraziare quei quasi 40.000 calabresi che ci hanno preferito, che ci hanno scelto. Il 5% è un 5% di onestà e di trasparenza perché noi non abbiamo promesso niente, non abbiamo certamente dato nulla in cambio per il nostro voto se non la nostra passione e il nostro impegno. Che non finisce qui, che non pensiate che certamente il Movimento 5 Stelle si fermerà in questa sede perché le nostre battaglie sono tante e saranno tutte sul territorio. Ringrazio particolarmente i cittadini catanzaresi e i cittadini della provincia di Catanzaro che ci hanno dato veramente un ampio riscontro, come anche quelli della provincia di Crotone e di Cosenza. Devo dire che evidentemente la Calabria non è ancora pronta ad un cambiamento culturale, bisogna lavorare tanto sul territorio, bisogna cominciare a essere più presenti, bisogna cominciare a essere più appetibili, più facilmente conoscibili dalla cittadinanza, però comunque questo è un dato importante da cui partire.